Quindi, ho il piacere di inaugurare la rubrica col super mitico Giulio, che abbiamo, tra virgolette, inseguito a lungo tempo, e... Ragazzi, avete fatto un casino. No, c'è scritto maestro accanto a DBA, cioè non è che c'è scritto diverso. No, c'è scritto video, maestro. Eh, ma non c'è il video, ma c'è le foto, è uguale. Allora però dovete essere più chiari della comunicazione. Giulio, mi perdoni, ho fatto casino. Poi la colpa non è mia, però me la prendo io perché tanto si fa sempre così. Ma figurati, anche dopo io ci avrò da discutere di una cosa che non ho preparato perché non sapevo, ma questa è un'altra cosa. Vai tranquillo, qui l'improvvisazione regna. Ma certo. Vai Luigi. Allora, oggi c'è stato lo scoop mondiale. C'è stato lo scoop mondiale perché Andrea Montuori, in arte il maestro, o meglio, il maestro in arte Andrea Montuori, ha rivelato al mondo qual è il progetto al quale sta lavorando. Da un po' di tempo. Da un bel po' di tempo. Perché Andrea è uno di quelli che quando ha un progetto non gli piace fare una roba facile, no? Dice, vuole almeno un progetto che è minimo tre anni, se no non si diverte, no? Dice tanto, se no anche il progetto è. E quindi la presenza... Come una grande opera. Eh, come? Come una grande opera. Come una grande opera, no? Peccato che le grandi opere statali non vanno mai al fine, invece quella del maestro dopo qualche anno poi vengono finite con successo. Diciamo che il maestro ha buon punto, direi un ottimo punto, ha fatto vedere al mondo la sua opera che rappresenta una maschera, un elmo, di un guerriero medievale giapponese, se non sbaglio, che ricorda molto anche nelle linee i meca giapponesi che riprendono appunto la tradizione medievale delle armature giapponesi e che è chiaramente una MOC che è indossabile. Quindi l'elmo è indossabile, veramente non è incollato perché ovviamente chi conosce il maestro sa che non farebbe mai una roba del genere. Tutti i pezzi originali. Lego, non c'è colla, non c'è inganno, non ci sono tecniche illegali. Illegali. Potete vedere questo qui sotto è il maestro e dentro c'è il casco che è sopra. Quindi è veramente enorme. Ed è veramente enorme. Maestro dentro il casco. È scala 1 a 1. Oltretutto leggevo che è basata su un'armatura vera di un suo conoscente, di un suo amico e sta preparando tutta l'armatura. Stava preparando tutta l'armatura e è a buon punto, la sta quasi completando e ci saranno delle belle sorprese. Non resistiva più, non resistiva più. Non c'è veramente non resistiva più. Ha fatto vedere delle foto ieri e gli ho detto no, queste foto qui no. Farle col sole, farle col telefono, farle e finalmente oggi è riuscito a farle ed è veramente... Io fra l'altro l'ho vista in costruzione, ci sta lavorando da un po' di tempo. Perché comunque l'avrà smontato un paio di milioni di volte. Il maestro, non so, Renato, se anche te sei uno di quelli che va con LDD o va a mano. No, no, l'ha detto prima. No, scusate, a volte sono attento ad altre cose. Fabio? Sì, grazie Luigi. Quindi anche Andrea non fa uso di strumenti digitali e per lui è un gran bel lavoro. Ora era da un paio di giorni che stava facendo il supporto, perché chiaramente tutto il supporto deve essere in Lego, questo è ovvio. E quindi niente, ci faceva piacere farlo vedere e inaugurare la nostra nuova Digital Brick Art Fest. No, Digital Brick Art. Però va bene. Benissimo, tra l'altro la Oc ha già fatto il giro del mondo, perché l'ho vista l'hanno ribattuta praticamente le principali testate social di appassionati Apple. l'Italia e sicuramente da domani ce l'ha già anche in destra del mondo. È già appinta sul gruppo Facebook Lego Mock World, insomma è già a giro per il mondo. Bene, siamo contenti. Siamo molto contenti. Salutiamo Andrea, che non è potuto essere con noi, perché dove sta lui c'è una connessione, diciamo, non sufficientemente performante, da garantirgli la possibilità di essere live in video. Sicuramente ci starà ascoltando, quindi lo salutiamo tutti, tutti insieme gli diciamo che ha fatto un ottimo lavoro, scrivete nella chat qual è il vostro pensiero, ci fa piacere, interagiamo insieme anche su questa Mock. Quindi alla grandissima e sperando di poterla vedere presto dal vivo, anche se a me in Toscana ci appestiamo ad andare verso la zona arancio, che dentro da noi è anche un po' ridicolo, perché siamo orange dentro noi, però vabbè, passatemi sta battutaccia infelice. Allora, detto questo, passerei…